Elisabetta Margheriti, anche essa amica. Intanto vi potete accomodare qua sui poltrone. Facciamo tipo Maurizio Costanzo Sciota. Allora Maria Elena, se vuoi iniziare a introdurre, ti ringrazio. Grazie Flavio. Dunque con i ragazzi del workshop abbiamo già cominciato a vedere un po' il tema del workshop che si attesta a questo progetto che è stato presentato due settimane fa ed è un progetto interessante perché intanto è un'architettura d'autore perché è, come dicevo prima, Venturino Ventura. Ed è, sono tre palazzine per uffici. Quindi sono a Roma, quindi sulla Viale Regina Margherita e via Morgagni, quindi all'angolo. e la cosa interessante è che queste tre palazzine, la piazzetta Morgagni, è stata interessata da una riqualificazione e quindi è stato fatto un progetto della piazzetta inaugurato nel 2022 e poi mi hanno chiamato per fare questi progetti di queste logge. In realtà sono tre palazzine e quindi sono una settantina di logge. Quindi la particolarità è che sono delle logge aperte solo sul fronte ma apparentemente buie invece stando nella loggia sono molto alte e quindi sono molto luminose. Questa è un'immagine dal palazzo che c'era precedentemente, prima della costruzione delle palazzine. Queste sono delle palazzine destinate ad uffici che sono state costruite negli anni Sessanta. Quando si tratta di architetture particolari, quindi anche di pregio, queste palazzine hanno un vincolo architettonico è necessario fare delle considerazioni nell'inserimento del verde perché il verde non è un elemento d'arredo a sé stante ma è un verde strutturato. E bisogna fare delle considerazioni rispetto anche alla tipologia dell'architettura. Quindi un'architettura omogenea, quindi una facciata continua, una struttura in acciaio, vetro, mista e continua con questi sfondamenti che sono queste logge. Quindi è continua, apparentemente statica, ma ha una sua dinamicità intrinseca. Quindi abbiamo visto il sito, è a Roma, Viale Regina Margherita, Via Morgagna, è una soluzione d'angolo. E questa piazza è anche una piazza che viene privata ma che viene attraversata dal cittadino, no? Come solitamente si fa. Quindi l'architetto Venturino Ventura che ha fatto tantissime architetture, ha progettato molto a Roma e non solo in quegli anni appunto del dopoguerra. Quindi specialmente nella zona di Prati ci sono queste palazzine private. Quindi palazzine private, in questo caso invece si tratta di palazzi destinati appunto ad ufficio. E la sua caratteristica è di avere questa sensibilità per il verde. Quindi le sue architetture che siano private o pubbliche, c'è sempre la componente del verde, delle terrazze, no? Quindi la terrazza come elemento filtro, quindi come passaggio dal dentro verso il fuori e viceversa. Quindi le sue architetture sono radicate con il contesto. Quindi abbiamo pensato di riproporre un po' anche la poetica del Ventura che aveva appunto questa particolare sensibilità per il materiale naturale. Quindi l'anno di costruzione, abbiamo detto gli anni 60, 1962, quindi gli elementi ricorrenti, balconi, fioriere, strutture reticolari in ferro e anche queste ampie vetrate. Cosa particolare che nelle sue architetture e in special modo nei balconi, nelle terrazze che ha progettato gli piaceva giocare con i tiranti, con i tiranti per agevolare le piante rampicanti e con delle strutture reticolari non portanti ovviamente. Quindi queste sono delle fotografie prima dell'intervento. Questa è una aureofoto realizzata con il drone, l'abbiamo fatta appunto agli inizi a gennaio, perché poi questo progetto è durato pochissimo, un mese, l'abbiamo fatto in un mese, un mese e mezzo. Vedete che qui c'è la piazzetta che è stata recuperata di recente e queste sono le tre palazzine. Quindi la committenza, eravamo partiti con il progetto delle logge. Poi mi è stato chiesto di progettare anche la parte del coronamento, quindi le terrazze. Le terrazze e questo giardino pensile che si trova tra la palazzina, questa pianta quadrata e questo corpo ellittico. Quindi sono due spazi verdi molto contenuti, 100 metri quadri totale. E hanno pensato anche di voler progettare questo giardinetto pensile perché viene visto da questo marciapiede che costeggia Viale Regina Margherita, meno dalla piazzetta perché ha una quota rialzata. E qui ci sono informazioni sul fondo, la proprietà, i gestori. Ecco, questa è un'immagine quando hanno trasferito gli olivi nani che erano nella piazzetta quando hanno fatto la riqualificazione della piazzetta, hanno portato in quota questi alberi nani che sono gli olivi e che sono stati integrati nella progettazione anche delle terrazze. Queste sono, appunto, questo è il rilievo fotografico che abbiamo realizzato e qui va bene, si ripete, l'acciaio, il cemento armato, il vetro specchiato, travertine e corten sono i materiali che sono stati usati anche per la riqualificazione della piazza. Queste sono le logge, questa è la piazzetta che è stata appunto riqualificata e per la piazzetta sono state previste queste piante cilieggio da fiore, il ligustro, la gestroemia, l'acero, il pero poi arbusti della macchia mediterranea quindi viburno, erica, mirto, fotinia, rosmarino, lavanda bene, poi il verde di contesto, palme e pini allora questa vegetazione è stata inserita dal precedente progetto della piazzetta e che ho già trovato, insomma, mi sono ritrovata e quindi il concept di progetto è stato, quindi l'idea, cioè ho cercato con il concept di essere sensibile al concept di ventura di venturino-vettura e di questo discorso del dentro e il fuori questo elemento filtro quindi il verde diventa l'elemento filtro e ho immaginato questi balconi logge come dei piccoli giardini quindi non la pianta che viene solitamente localizzata nei balconi anche abbastanza così in maniera arbitraria ma con le consociazioni delle specie ho cercato di ricreare un piccolo giardino quindi le piante che hanno il proprio contenitore e quindi teoricamente sono autonome però sono state concepite come se fossero in un giardino quindi sia le consociazioni botaniche sono state rispettate e anche da un punto di vista estetico quindi la composizione in ogni loggia gioca con l'elemento focale che solitamente è l'albero nano con delle specie di accompagnamento che sono arbusti ed erbace e poi con un elemento di fondale che è un rampicante posto sulla parte di fondo delle logge ho fatto attenzione anche all'associazione tra sempreverdi e caducifoglie perché se si mettono tutti caducifoglie poi d'inverno c'è la morte e quindi bisogna fare attenzione a queste consociazioni cercando di inserire cioè di alternare le specie sempreverdi con le specie caducifoglie e altra cosa le specie erbace sono quelle dominanti ma le perenni perché? perché si voleva mantenere una certa trasparenza e quindi non sovrascrivere in maniera forte l'architettura ma cercare di mantenere anche una trasparenza da un punto di vista figurativo quindi uno spazio giardino quindi uno spazio conviviale che magari può essere utile per fare delle piccole soste cioè pause durante il lavoro in alternativa della piazzetta mi dicono andare veloce forse mi sto dirungando un po' troppo ecco questi sono gli schemi delle palazzine due sono uguali e poi sono a pianta rettangolare e poi ce n'è una a pianta quadrata e sono state individuate le aree di intervento ed è stato utile questo soprattutto per poi sono stati funzionali anche l'impianto di irrigazione che si è stato scelto poi ecco questa è una palazzina è l'unica pianta quadrata con il corpo ellittico e il giardino pensile che è anche oggetto del workshop queste sono le specie che sono state arboree che sono state scelte quindi ci sono tutte le varietà nane alberi da frutto e poi è stato inserito nella composizione nella parte della terrazza anche l'olivo nano e tra le piante delle specie arbustive c'è la macchia mediterranea e senza che le leggo tutte ma le trovate anche nei file descrittivi per il workshop e ci sono anche tutte le indicazioni delle dimensioni delle dimensioni della chioma quindi della proiezione delle altezze se sono appunto l'espressività sagionale che vi è utile specialmente per voi siete tutti architetti ma magari con le piante avete poca dimestichezza allora ci sono tutte le indicazioni quindi anche per quanto riguarda la manutenzione il tipo di terreno ci sono tutte le indicazioni che vi possono essere utili e soprattutto nelle dimensioni ho dato le dimensioni massime perché teoricamente diciamo che nei progetti si tende al pronto effetto anche se non è una cosa proprio giusta però diciamo che la rappresentazione però è importante avere questa considerare la massima come si dice la massima proiezione per anche capire a che distanza si possono posizionare le piante con i vasi con i contenitori e le specie erbacee vedete che sono tante tante perché poi l'effetto che si poteva dare era un effetto piuttosto di naturalità quindi anche sono specie che si trovano nella nostra città si trovano anche lungo il nostro fiume tevere i rampicanti nota dolente però c'è stato anche uno studio sui rampicanti cosa che bisogna fare attenzione anche perché ho messo anche dei rampicanti a foglia caduca ma bisogna fare attenzione anche alla manutenzione cioè a quanto sporcano questi rampicanti quindi bisogna anche pensare a questo e quindi su queste sono delle indicazioni che poi in corso d'opera quando realizzeremo il progetto magari ci possono essere dei cambiamenti al corso d'opera anche nell'associazione delle piante perché poi quando uno va sul posto poi si rende conto veramente se l'effetto è proprio quello che volevamo a parte i render che i render poi sono belli però poi nella realtà e quindi abbiamo fatto senza che entro proprio nello specifico abbiamo fatto un'ipotesi di impianto di irrigazione quale poteva essere comunque un'impianto a goccia io pensavo un'impianto di soccorso ma comunque perché intanto le loggie sono chiuse c'è solo l'apertura frontale quindi tutto sommato sono anche più protette dagli agenti atmosferici però nel periodo più caldo sicuramente le piante hanno necessità di acqua come anche hanno necessità di essere drenate perché è vero che le piante senza acqua non vivono ma anche se c'è troppa acqua muoiono perché per asfissia dell'apparato radicale esatto infatti quindi possono resistere a periodi anche di non irrigazione uno si dimentica e poi vede che sono ancora vive ma se c'è troppa acqua muoiono subito quindi importante anche tutta la stratificazione che andiamo a mettere nel contenitore perché poi ecco il vantaggio diciamo delle piante in vaso è proprio che uno può calibrare il tipo di terriccio lo spessore però certo le condizioni sono delle condizioni che non sono ideali come quelle della piena terra è ovvio e quindi bisogna fare attenzione a questi particolari l'acqua ma anche drenare no e anche la terra è molto importante io ho cercato di consociare nelle logge le piante che vivono bene insieme come se fosse un giardino perché magari ci può essere la necessità anche di metterle alcune nello stesso contenitore no quindi per ragioni di spazio anche per ragioni proprio di di riempimento estetiche esatto quindi mi piaceva l'idea di non pensare appunto al balcone della pianta in vaso che poi può essere spostata ecco questo è stato un problema cioè che mi sono posta nel senso che è vero le piante sono sempre in trasformazione quindi comunque c'è una certa deve esserci una certa elasticità però è anche vero che se io faccio una configurazione cioè una data composizione poi può essere boicottata no perché sono facilmente diciamo è trasformabile a proprio piacimento e questo non va bene quindi o legare insieme può essere anche una necessità in un ambiente molto particolare come una loggia diciamo chiusa aperta soltanto da una parte dove ho quindi una circolazione dell'aria diciamo un po' anomala se vogliamo e dove ho anche un'insolazione che può diventare anomala e posso avere dei riverberi particolari sulle piante posso accorgermi durante la vita delle piante che alcune specie non si adattano bene a quel punto e magari spostandole anche solo di un metro o la pianta invece sta molto meglio quindi lo spostamento delle piante può essere dettato anche appunto dalle necessità dovremmo fare una messa a punto che può essere anche fatta nel tempo perché prima che uno capisce esattamente come sta la pianta ci vuole un po' e poi magari cercare però un sistema che possa in qualche modo vincolare questa composizione perché altrimenti ognuno sono tutti uffici degli spazi in affitto adesso lo ha sposto questa pianta quindi poi il verde in facciata si configura in un modo diverso e quindi ci sarebbe anche questa necessità una volta che si capisce bene qual è lo stato qui ci sono delle indicazioni dell'impianto in riguo ma insomma non entreremo nel dettaglio di questo ecco sulle sedute ci sono delle possibilità anche qui bisogna riflettere allora contenitori quali contenitori scegliere allora in questo caso le piante devono essere viste perché il parapetto è circa un metro c'era la necessità di mettere il verde sui trampoli per certi versi quindi su contenitori alti e quindi ce ne sono tantissimi in commercio di tutte le forme possibili quindi sono molto costosi ho visto sono costosissime perché poi parliamo di contenitori non di plastica ma di vetroresina ecco e quindi sono molto costosi però io penso che sia la soluzione ideale perché sono leggeri e perché possono essere sono anche isolati quindi hanno delle caratteristiche hanno poco peso è quello più spostabili e quindi anche vanno a gravare non in maniera importante sulla struttura anche se la struttura si costano 150 una cosa anche perché sono alti sono grandi per cui quindi ci sono delle indicazioni sui contenitori esterni che comunque devono essere alti e sul contenitore interno per il rampicante poi abbiamo dato questi sono i disegni di studio delle ipotesi di sedute anche se poi le sedute potevano essere pensate anche in opera perché ci sono i rivestimenti all'interno delle logge delle doghe di metallo quindi si potrebbero anche fare delle sedute che continuano la parete quindi dalla parete diventano sedute questo nel caso in cui si volessero fare una progettazione questi erano degli esempi vado avanti poi c'è pure questo contenitore che ci sono anche i contenitori di metallo no? e tra l'altro gli alberi nani quello dell'olivo quello che sta in terrazza ha una c'è il vaso dentro e poi c'è un rivestimento di metallo che chiude però sul metallo il rischio è che se il metallo è esposto al sole che si riscaldi molto e che quindi possa danneggiare in qualche modo le piante e in ogni caso mi crea un problema con la gestione dell'acqua perché poi ricordiamoci che sono tutte piante in vaso quindi la gestione dell'acqua può essere un fatto estremamente delicato devo innaffiarle anche in pieno inverno anche se con piccole quantità devo gestire l'acqua che se non ho un pozzo e utilizzo l'acqua della CEA sono fuori legge tra l'altro e quindi bisogna fare molta attenzione perché sto utilizzando acqua potabile quindi è chiaro che la devo utilizzare anche con una certa attenzione e quindi il metallo diciamo non è proprio il più indicato per le fioriere poi anche soprattutto il corten che è stato usato ampiamente nella piazzetta può rilasciare anche delle sostanze chimiche che possono danneggiare anche il substrato però ecco il corten poi viene usato moltissimo dagli architetti e anche per i vasi illuminazione non c'è stato un vero e proprio progetto di illuminazione al momento perché era appunto su richiesta io ho dato delle indicazioni generali quindi led e poi ho pensato di come andare a illuminare queste piante se dal lato se dal laterale dal basso quindi ancora sono soltanto ipotesi e pensieri poi se vorranno farlo e farò anche il progetto di illuminazione questi sono dei disegni sempre preparatori per gli angolari che voi avete visto in pianta e li faccio un po' scorrere sulle varie esposizioni cosa importante è l'esposizione perché queste palazzine sono esposte allora una è un po' diciamo girata leggermente quindi c'è l'angolare esposto a nord-ovest nord-est sud-ovest sud-est e le facciate rispettivamente le facciate lunghe poi c'è invece la palazzina l'altra che è perfettamente a nord-sud o sud-ovest-est quindi bisogna fare attenzione all'esposizione delle piante perché ogni pianta predilige poi si adattano perché sono resilienti sono resistenti anche pensando alla loro condizione e natura di fissità lo sono ferme e mettono in atto tutta una serie di strategie per la sopravvivenza però quelle in natura sono più forti no no allora non sono ferme sono apparentemente ferme perché poi hanno tutta come ben lo studioso mancuso no l'intelligenza delle piante i messaggi no la competizione radicale c'è tutta una serie di loro messaggi no trasversali non sono ferme sono apparentemente ferme però sono sicuramente più ferme di noi però non si possono muovere è questo che dico esatto quindi importante l'esposizione e qualcuna di voi mi chiedeva no sull'esposizione no appunto ciascuna pianta poi predilige un'esposizione che si allombra piano solo alcune appunto quella situazione che si dice sempre semiombra no mezzombra perché appunto se una pianta se una buganvilla la mettiamo all'ombra farà quattro fiori è ovvio nel senso nel momento che si fa la progettazione che loro non riescono poi a sopravvivere in natura quello è un altro discorso nel momento che progettiamo ogni tipo di esposizione a un elenco di piante che sono più adatte a un terrazzo all'ombra rispetto a uno al sole quindi quello è fondamentale come scelta botanica secondo me a prescindere perché chiaramente ci permetterà poi di avere delle performance delle piante durature nel tempo poi loro chiaramente cominciano a muoversi quindi è ovvio che se soprattutto mettiamo in un vaso più di una pianta cominceranno le consociazioni quindi prenderanno i loro spazi di sviluppo questa è una cosa interessante che è abbastanza prevedibile ma non sempre totalmente questo però è la cosa bella di consociazione però ecco la posizione è assolutamente la prima cosa che va vista a livello di progettazione aggiungerei anche scusami aggiungerei anche il vento che è un elemento che può dare molto fastidio alle piante direi generalmente a quasi tutte le piante dà fastidio anche perché il vento ha a parte proprio un'azione meccanica sulle foglie delle piante ma poi ha un'azione di quella di quello strato di umidità che la pianta si costruisce intorno con l'evapotraspirazione dell'acqua quindi quando il vento porta via quell'umidità costringe la pianta a continuare a produrre vapore acqueo per mitigare le temperature intorno e per modificare il turgore cellulare tenere il turgore cellulare e questo questo aspetto è importante perché può portare addirittura soprattutto nei periodi più caldi ovviamente può portare addirittura le piante a morire teniamo conto del fatto che noi oggi lavoriamo con un clima che è ben diverso da quello di 20-25 anni fa di 30 anni fa quando le estati erano ben definite e avevano una certa durata oggi l'estate comincia spesso a aprile e finisce a novembre quindi dobbiamo anche tener conto del fatto che le piante effettivamente alcune specie che una volta si utilizzavano regolarmente oggi cominciano a avere delle difficoltà con questi climi grazie bene allora faccio scorrere questi sono tutti gli angolari con le diverse esposizioni poi ci sono le logge quelle più grandi che alcune di voi stavano cominciando a studiare che sono queste che sono l'ultimo piano cioè il quinto piano poi c'è la terrazza e poi ci sono appunto queste logge che sono invece il retro quindi ci sono tre tipologie di logge più o meno profonde e anche dimensionalmente diverse diversificate e poi ci sono le terrazze ma allora per quanto riguarda le terrazze io ho pensato di aumentare questo senso di verticalità e quindi di rafforzare cioè di addensare le piante sugli angoli dove ci sono appunto gli angolari e sulla parte delle logge e poi di andare un po' a sfilacciare considerate che avete poco spazio quindi devono essere sempre in prossimità del parapetto del perimetro e quindi lì ci sarà anche un problema di vento maggiore forse quindi lì o si mettono dei vasi più bassi e più larghi oppure anche là ancoraggio in qualche modo dopo l'assestamento e le consociazioni possono essere ancora più utili perché dove io ho un'insolazione diretta se proteggo il terreno con le piante più basse riesco a mantenere il terreno un pochino più umido anche nei periodi più caldi tenuto conto del fatto che nel terreno poi devo agevolare tutta una serie di fenomeni biologici che devono avvenire e che quindi se il terreno mantiene una certa umidità per quanto moderata e mantiene anche delle temperature che stiano diciamo in termini in un range ragionevole per gli esseri viventi faccio sì che questi microrganismi che vivono nel terreno e che svolgono un lavoro importantissimo per le piante possano continuare ad agire e poi chiaramente anche in questo caso basta diciamo che la difficoltà di tollerare il vento è un po' comune però scegliendo un rampicante o una pianta che ha una foglia più coriacea che ha più di esistenza secondo me chiaramente anche in quel caso è la scelta della pianta della specie esatta giusta da mettere mettendo anche secondo me nel caso che si sceglie quindi di andare in altezza a livello verticale per una base che comunque protegge in qualche modo oppure pensare a una spogliante una vita americana come ho visto per esempio in lista che in qualche maniera poi spoglia e quindi poi i venti quelli proprio freddi cioè anche quello caldo dell'estate può chiaramente danneggiare però anche lei comunque si crea nelle foglie sotto una certa ombra secondo me è più robusta è più sicuramente tenace nel reggere poi al discorso vento l'inverno è spogliante quindi volevo dire anche i rigori invernali il vento freddo siamo fuori da questo pericolo bene molto interessante come questo discorso di copertura del suolo ma anche di scelta delle piante per per agevolare questa condizione di continuo soleggiamento e anche ventosa perché poi terrazza è tutta aperta è tutta gira tutta intorno sì e va bene altri 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 schemi ecco questo sono i render diciamo l'effetto che si può avere no di questo verde che dovrebbe essere un verde in punta di piedi perché appunto si trova in una condizione particolare di un'architettura comunque già di carattere no e quindi sì queste sono le altre sono state fatte diciamo nella massima espressività no sono tutte quante fiorite anche se non sono contemporaneamente esatto cioè questo è un po' un artificio diciamo così la disperazione di chi fa il nostro mestiere spesso è sono le fotografie delle riviste specializzate che fanno vedere queste piante nel loro aspetto meravigliose naturalmente il cliente vuole quella e quando gli arriva quella piccolina dal vivaio protesta perché voleva quello no che poi tra l'altro c'è il bello del verde è proprio questa questa leggerezza no ma neanche proprio la pianta bella cioè la pianta bella è anche la pianta spontanea che trovi resistente che nasce tra le lastre sui muri ce ne sono tantissime lungo il tempo io sono innamorata proprio del verde quello non della pianta però va bene poi chi fa il render ovviamente vuole anche la sua cioè la sua bellezza del render giusto più che della diciamo della realtà anche se l'hanno fatta abbastanza cioè le specie le hanno proprio controllate però è ovvio che dovevano fare no allora in inverno è così e in primavera è l'estate è così no quindi invece così massima espressività in tutti i sensi questo è il giardinetto quello pensile e qui pure abbiamo fatto una una selezione di piante erbace per fare questo giardino pensile di tipo estensivo quindi graminace anche in alcuni in alcune in alcune aree un pochino alte quindi forse probabilmente lì dovremmo mettere più substrato un po' più alto e poi sedum poi abbiamo lasciato delle zone franche per fare la piccola manutenzione e anche forse per ridurre questa competizione radicale quindi abbiamo fatto dei cordoli sempre a livello progettuale poi dovremmo realizzarla e quindi in questo caso è un verde che si vede quindi c'è il godimento estetico rispetto al giardino intensivo che invece uno pratica cioè un vero e proprio giardino dove uno può trovare gli alberi gli arbusti grandi questi sono tutti sono delle piante quelle leggere contenute discrete che però sono molto belle sì e poi va bene cose tecniche soprattutto rispetto al solaio cioè la copertura del solaio cioè gli strati utili affinché appunto il verde pensile non diventi un problema per la struttura sottostante no e quindi per le radici per l'umidità bisogna avere un'accortezza particolare quando si va a fare il giardino pensile e poi abbiamo calcolato appunto i cordoli e quindi ci sono le dimensioni abbiamo fatto un calcolo approssimativo delle superfici e poi qui c'era un tema interessante che era quello c'è un cordolo molto basso e c'è il rivestimento in facciata che sono le lastre in travertino e poi delle doghe metalliche e quindi qui ho esposto a loro anche questa problematica un po' più da architetto restauratore no? cioè che andiamo a fare? Andiamo a fare una cosa che sia più possibile omogenea una cosa che invece si distacchi in questo caso in particolare che facciamo è un'architettura che bisogna comunque rispettare e quindi però ho dato un po' di libertà in questo perché mi sembrava giusto a prescindere poi dalla soluzione che ho adottato io e bisogna rialzare quindi il cordolo perché c'è un cordolo di 5 centimetri e poi c'è soltanto la guaina non c'è niente quindi bisogna mettere tutto il pacchetto per poi far attecchire le piante il substrato utile e quindi rialzare il cordolo di contenimento ecco e questo è il disegno sempre lo studio di studio delle associazioni insomma delle piante e quindi anche ho ripreso un po' la giacitura un po' geometrica di questo ellisse per creare queste zone franche per la manutenzione perché sì è vero non è praticabile però deve essere manutenuto quindi bisogna andarci sì e questo è un altro render dove si vede il giardino pensile in tutta la sua bellezza in tutti i colori così e vedete che la parte quella di cuneo è un pochino più alta e quindi un po' trattata come la vegetazione sui lati del percorso quindi bassa e poi più alta e poi dietro stessa cosa ma dietro è anche funzionale perché ci sono delle macchine termiche che volevano assolutamente e quindi hanno preso in prestito il verde per questa cosa però si può fare e poi c'è una una sorta di finestra qui è tutto chiuso c'è un setto che va dal giardino fino su fino a questo punto però c'è una piccola apertura qui e quindi una sorta di finestra un punto di unione tra le due aree che pure mi sembrava interessante mantenere come traguardo visivo e vabbè poi qui ci sono c'è un po' le raccomandazioni per questo workshop perché è un workshop sui balconi le loggie vabbè ho portato questo esempio di questo balcone dove non c'è niente però c'è qualcosa che è nato eccolo e quindi un discorso a livello percettivo che noi comunque abbiamo anche architetti facciamo molta attenzione al discorso della percezione percezione da quello che vedo da dentro verso fuori ma anche quello che vedo da fuori e in questo caso del verde in facciata quindi ci sono livelli di percezioni a diverse quote quindi anche nell'inserimento del verde allora primo piano più vicino alla piazzetta quindi io riesco a percepirlo di più il verde mano a mano che mi allontano ho una visione sempre più bassa e quindi forse le piante devono un po' crescere in altezza quindi ecco ho fatto un po' di discorsi di questo tipo e qui ci sono alcuni esempi mentre giravo per Londra di vabbè Londra è un po' diversa da Roma il verde a Londra è una costante no? si trova ovunque a Roma un po' meno però scoperto specialmente il periodo del lockdown sono andati in giro per Roma nel centro e comunque anche Roma ha i suoi angoli Roma ha delle terrazze bellissime sì ma veramente meravigliose con veramente delle bellissime piante rispettiamo in qualche modo la tradizione romana perché Roma era una città di giardini lo è tuttora non molto ben mantenuti ma è una città di giardini di bellissimi giardini e bellissimi parchi qua attorno insomma qua sopra abbiamo Villa Glori ma c'è Villa Borghese che sta qua dietro ma la tradizione romana anche del collezionismo no? Roma ha avuto vari orti botanici ad esempio no? come anche c'erano molte collezioni private quel che resta di Villa Aldobrandini era una collezione fantastica di piante vi invito anzi in questi giorni che sta cominciando a sbocciare tutto quanto a farvi una visita a Villa Aldobrandini sopra i mercati di Trianei un giardino apparentemente molto piccolo ma ricco di una varietà di specie anche esotiche molto particolari infatti volevo fare dopo una piccola chiosa al tuo discorso prego benissimo tanto ho finito e va bene questa è l'attenzione che appunto è necessario fare quando si fa qualunque cosa che sia cioè che ci sia il verde che ci siano le piante no? quindi anche se si tratta di un giardino di un parco di un balcone è necessario appunto come dicevano anche Franco ed Elisabetta che bisogna tenere conto di tantissimi aspetti anche se in maniera diversa però ci sono tutti questi aspetti da considerare no? che sono gli aspetti appunto ambientali ma anche gli aspetti fisici anche del quando parliamo anche del substrato e quindi una progettazione può essere a grande scala o a piccola scala di dettaglio e qui altri esempi sempre Londra e poi questo lo sapete già perché sono le tipologie che dovrete affrontare oggi quindi angolare loggia terrazza giardino pensile però ve lo siete già diciamo in qualche modo diviso questo è il verde in facciata molto molto comune a Londra come anche giardini pensili molto comuni e poi altre va bene specie allora io ho in questo progetto ho prediletto diciamo la la scelta per le piante rustiche per le erbacee perenni anche se con un po' di dispiacere perché comunque anche le annuali e le biennali danno un contributo importante però sono molto più difficili e quindi ho pensato di proporre delle perenni c'è c'è l'aspetto della cura poi delle piante dei terrazzi negli anni successivi che dovrebbe sempre entrare in un progetto cioè io devo sempre pensare a quanta cura e a quanto tempo poi potrò dedicare a quello che ho realizzato perché spesso si vedono giardini meravigliosi terrazzi meravigliosi ma se poi non ho la cura necessaria che a volte può essere anche può anche impegnare diverse ore al giorno poi io inevitabilmente rovino tutto perché pensiamo che le piante che vivono in vaso non vivono ovviamente come dicevi anche tu prima non vivono nel loro ambiente ideale no vivono in un ambiente comunque costretto e tra l'altro il terreno si impoverisce nel corso del tempo perché l'acqua che scorre comunque porta via un sacco di sostanza oltre a quella ovviamente che sottrae la pianta e quindi io devo pensare che ogni anno devo restituire questa sostanza al terreno perché altrimenti la pianta poi dopo un po' comincia a soffrire quindi la cura diventa un aspetto veramente molto importante del progetto e quindi anche prevedere un piano scusa e anche quindi prevedere un piano di manutenzione anche no da sottoporre a chi poi farà avrà cura delle piante perché in questo caso sono uffici non penso che no ci sarà il giardiniere che in cura forse non lo so perché poi questo progetto andrà in gara per cui però ecco bisognerà capire esattamente chi farà la manutenzione che è fondamentale è l'elemento più importante nel senso che quanto è la progettazione no perché poi vediamo appunto il render quando tutto è molto bello è fiorito abbiamo trovato le essenze giuste le abbiamo messe nel posto giusto quindi l'equilibrio di cui parlavi tu no spostiamo quello che poi abbiamo trovato il posto quindi è tutto perfetto poi a volte dico sì benissimo ma l'acqua chi gliela dà no dobbiamo un attimo decidere no non possiamo decidere dobbiamo sapere in questo momento perché queste piante che sono state messe a dimora può essere autunno può essere l'inizio primavera ma loro appunto perché le abbiamo tolte da un vaso e messe in una fioriera in un vaso più grande in quel momento hanno bisogno di assistenza sempre perché altrimenti rischiamo di non avere il giusto attecchimento della pianta una volta che poi questo è avvenuto hanno bisogno appunto di svilupparsi quindi ci saranno momenti in cui dobbiamo concimare in un determinato momento dobbiamo potare in un determinato momento ma per far partire tutta questa parte di piantumazione iniziale è necessario che per almeno i primi due anni ci sia una manutenzione costante questo in un ambiente di questo tipo quindi dove appunto sono uffici e dove sicuramente chi lavora in un contesto dove finalmente si troverà del verde avrà delle agevolazioni estetiche ma anche piacevolmente potrà uscire avendo appunto un contesto verde da usufruire però questo verrà vanificato nel momento in cui non ci sarà una manutenzione adeguata che per mantenere nel tempo tutto questo investimento che poi è fondamentale quindi la manutenzione nel momento in cui si decide già a livello progettuale quelle che saranno le essenze perché sapere anche che ci sarà una manutenzione continua magari due volte a settimana è diverso sapere che ci saranno giardiniere che ci va due volte al mese a quel punto potrebbe essere così sappiamo che la manutenzione verrà fatta due volte al mese scegliamo delle piante che se la possono cavare più da sole cioè tutto secondo me in una fase iniziale dove tutto si deve prevedere tra due anni cosa succederà quindi questo è fondamentale e no basta no prego no perché poi anche scegliendo le piante rustiche però comunque sono in vaso e quindi la loro rusticità è sicuramente ridotta perché e ancora meglio sarebbe prevedere la manutenzione all'interno del progetto e che la manutenzione venga portata avanti dalla ditta che realizza il progetto perché così si evita il contenzioso si è seccata quella pianta l'hanno messa male a dimora hanno portato via hanno portato una pianta di cattiva qualità oppure ma tu non gli hai fatto la manutenzione bene non gli hai dato l'acqua a sufficienza perché per esempio sull'irrigazione dobbiamo tenere presente che a volte bisogna irrigare molto anche d'inverno la pioggia anche quando io non ho la loggia ma quando ho le piante allo scoperto considerate la pioggia a valore per l'irrigazione zero perché la chioma delle piante spesso fa uscire l'acqua di pioggia dal vaso e quindi il valore della pioggia per l'irrigazione è veramente zero e quindi ovviamente ho necessità che chi lo realizza poi lo mantenga per i primi due anni dopo due anni le piante si ritengono ormai attecchite e quindi poi la manutenzione è continua perché per avere belle acestite è normale che dobbiamo avere auspicabile però i primi due anni è fondamentale io a volte mi è successo di aver venduto dei bambù e tutto questo entusiasmo del cliente e poi sono tornati tutti secchi perché si erano dimenticati dicendo no signora non avevamo capito ma come non avete capito in che senso ma mi è successo tante volte e dove tu dici beh poi le avevamo lasciate in vaso poi le lasciano in vaso cioè le abbiamo comprate le metteremo a dimora lì proprio è andata quindi queste sono cose base sembra quasi un po' assurdo di raccontarle dirle ma poi è così ma no infatti il piano a tutti i livelli il piano di manutenzione dovrebbe essere fatto io faccio una bozza di piano di manutenzione voi ovviamente siete bravi no a farlo a controllarlo no soprattutto anche appunto i primi due anni e poi cambia magari no quindi fare un monitoraggio esatto ma è tutto un discorso di cura come diceva Franco no e purtroppo per fortuna anzi lavoriamo con esseri viventi quindi loro hanno bisogno di cure continue poi appunto c'è come tutte le persone un po' quelle che un po' più forti quello che ha bisogno un po' più di stare dietro di piante che sono possono essere appunto più invasive più sensibili però la cura è fondamentale questo non ce lo dobbiamo dimenticare eh sì se no il progetto non è non serve a nulla è vanificato perché poi non ma tante volte capita io vedo dei parchi che sono bellissimi inizialmente e poi cambiano il loro aspetto perché perché nessuno se ne cura è giocamento mentalmente e quindi va bene questo l'abbiamo già detto questo mi piaceva molto questo piccolo balconcino con qualche vaso sempre a Londra se c'è un agrume che proprio è è il limone si impermalosisce poi non ti fa diventa tutto difficilissimo pure nell'immaginario che ci metto ci metto un bel limone lì cominciano i guai esiste un altro aspetto della cura che è interessante e cioè la cura antiparassitaria e la cura delle malattie delle piante io quando quando lavoravo in vivaio avevo spesso clienti che venivano da me mi portavano piante che stavano benissimo magari avevano fatto una foglietta gialla e la signora mi diceva mi sta morendo signora la pianta sta benissimo mi guardava non mi dà niente da dargli un concime no non le do niente da dargli la pianta sta benissimo la lasci tranquilla come sta a volte le curiamo anche troppo cioè il troppo amore per le piante ci porta a enfatizzare degli aspetti minimi qualche fogliolina che cade è normale ogni tanto che ci sia un ricambio di foglie anche sulle sempreverdi ovviamente c'è un ricambio di foglie e quindi non mi devo preoccupare in più si tende a volte a fare trattamenti con prodotti antiparassitari che ci vendono così a calendario vedo una cosa e gli do e gli comincio a spruzzare robaccia addosso oggi si fa molta lotta biologica nei giardini e nei terrazzi si fa lotta con gli insetti si fa lotta biologica con prodotti a base di funghi si fa lotta biologica con prodotti a base di di microrganismi di batteri eccetera eccetera e spesso lo dico per esperienza personale e anche Elisabetta lo sa molto bene la lotta biologica è anche più efficace della lotta chimica è anche molto più divertente ovviamente perché se io ho gli afidi sulle rose e libero un po' di coccinelle se permettete è un po' meglio che andare a spruzzare insetticidi e funzionano alla grandissima quindi anche sulle cure c'è da stare sempre dietro alla scienza che ci mette a disposizione e all'industria ovviamente che lavora in questi settori che ci mette a disposizione sistemi biologici sempre più efficaci e che quindi ci aiutano in maniera molto molto importante questo è un aspetto molto difficile proprio da esperti gli esperti lavorano insieme cioè quando si ha a che fare con il mondo vivente è chiaro che diventa un'attività multidisciplinare e quindi i vari soggetti che possono collaborare su un progetto possono dare ognuno il proprio contributo anche sul discorso cura futura quindi sul libretto di cura di un giardino diciamo ma la cosa importante è proprio quella che stiano tante teste a pensare sul progetto questo è assolutamente vero perché poi si lavora sempre in gruppo anche voi oggi lavorerete in gruppo difficile perché no però diciamo è sempre un po' difficile soprattutto quando non si conoscono però è uno scambio che ti arricchisce molto perché ognuno dà il suo contributo quindi la multidisciplinarità è fondamentale perché in un progetto di verde tutti gli aspetti devono essere una persona non può fare tutto può fare tutto così più o meno ma non in maniera specifica specialmente per i grandi progetti ma anche per i piccoli no c'è botanico agronomo vivaista che vive tutti i giorni insieme alle piante l'architetto paesaggista dovrebbe ma anche l'architetto non paesaggista perché in questo caso magari dà un contributo rispetto all'architettura o contributi di dettaglio adesso non so se ho dimenticato qualcuno ma l'approccio deve essere tantissimi anche botanici biologi agronomi geografi meteorologi perché oggi è fondamentale anche quello infatti io perdonami che ti interrompo un po' così intanto perché volevo lasciare un po' di spazio anche Alisabetta e Franco che mi sembra che abbiano preparato qualcosa da farci vedere ma una cosa su cui vorrei far riflettere un po' tutti parliamo di clima il terrazzo è di per sé già un microclima un microclima molto particolare un microclima che non è detto che risponda alle condizioni climatiche che ci sono all'intorno oggi si usa molto dire utilizziamo le cosiddette piante ad octone perché si adattano meglio a quel clima non è detto che sul terrazzo questo avvenga perché le condizioni climatiche sopra una terrazza sono molto particolari per i motivi che diceva prima Franco di soleggiamento di rifrazione di riscaldamento immaginate che le piante stanno sì in vaso ma stanno sopra un pavimento che si riscalda ad esempio nel sole stanno in genere in posizioni che in natura non hanno se io metto un acero palmato al quinto piano prenderà sicuramente il vento in maniera differente che nel giardino giapponese che abbiamo visitato a Kyoto e che ha fatto sì che noi comprassimo quell'acero palmato quindi anche la scelta progettuale delle specie secondo me è una scelta che è sì legata giustamente al contesto in cui ci troviamo ma può essere anche una scelta un po' più ardimentosa intanto perché il giardino è sempre stato meraviglia e allora dato che la nostra Maria Elena ci ha proposto questi terrazzi e balconi come giardini secondo me anche loro devono essere meravigliate non perché le piante che appartengono al nostro habitat non siano meravigliose ma perché forse la terrazza ci consente di acclimatare e di utilizzare anche piante differenti non voglio con questo dire utilizzare tutte le piante esotiche però pensiamo anche che in alcuni casi proprio per i problemi che si vengono a creare climatici sopra un terrazzo l'utilizzo di alcune piante che si possono adattare può essere anche derivato da mondi differenti dai nostri intanto perché se no i vivai non camperebbero più se vendessero solamente lecci allori a parte che noia che sarebbe infatti prima parliamo qui siamo in mezzo al bambù no come dire forse l'Italia è uno dei pochi posti dove il bambù realmente non cresce e ho detto vorrei ritornare anche sul tema della manutenzione perché chiaramente facendo io questo mestiere predispongo piani di manutenzione il piano di manutenzione è importantissimo la prima cosa che io dico ai miei clienti nel momento in cui mi incaricano mi dicono se incarichi devi incaricare contemporaneamente anche un giardiniere perché se non sei in grado di come dire di garantire la cura di cui è bisogno la pianta che è un essere vivente ve lo ricordo sono esseri viventi e quindi come tali hanno ognuno la loro caratteristica le loro preferenze le loro peculiarità non ci sono due bambini uguali sulla faccia della terra ma non ci sono nemmeno due piante che sono uguali tra di loro le malattie possono colpire una pianta e quella a fianco no le resistenze sono differenti e soprattutto quando lavoriamo dentro un ambiente estremamente artificiale qual è quello della terrazza le piante stanno in contenitore come dire non sono piante che vivono nella loro condizione naturale no la mancanza ve ne accorgete tante volte quando andate a visitare un vecchio giardino una vecchia terrazza che parla di spostare i vasi non si spostano più perché perché dal dal buco di drenaggio sono uscite le radici magari si sono infilate in mezzo alle mattonelle addirittura in alcuni casi bucono la guaina portano l'acqua alla signora del piano di sotto quindi l'aspetto manutentivo deve essere sì gestito attraverso un'attenta piano manutentivo successivo ma deve essere anche garantito secondo me a livello progettuale cioè la progettazione è quella che deve garantire il livello manutentivo corretto ma il livello manutentivo corretto cosa significa? che se tu hai due ore al giorno a dedicare alla terrazza è una cosa se tu hai due ore a settimana è un'altra se utilizzi alcune piante è una cosa se le utilizzi altre è un'altra e poi come si diceva essendo esseri viventi cambiano quindi può darsi che la pianta che noi eravamo sicuri che potesse star bene in quel posto decide di non adattarsi a quel posto perché le varianti sono talmente tante sono diciamo infinite che potrebbero modificare la situazione puntuale in quel luogo io ogni tanto sulla mia terrazza perché ho una terrazza provo sperimento con delle piante ci sono le piante che dico ma questa verrà sicuramente sarà benissimo sarà da Dio perché è perfetta in quelle condizioni al quinto tentativo come dire dato che non mi piace vederle morire rinuncio invece le piante che più inaspettate vengono benissimo vuol dire che non tutte le condizioni siamo in grado di gestirle a priori ed è la cosa anche fantastica quando lavoriamo con materiale vegetale scusatemi che ho tolto dello spazio ai nostri ospiti vorrei lasciare la parola a Elisabetta e Franco ma io in realtà ho portato una serie scusa Franco poi ti ho interrotto una serie di foto di piante che possono andare nelle varie situazioni ma non è tanto guardare quelle ci sono delle cose che secondo me ci sono dei consigli che credo che io e Franco possiamo dare nel caso in cui uno ha intenzione di rinnovare e progettare il terrazzo quindi forse magari è più utile fare questo credo in questa sede potrebbe essere interessante ma io contentissima anzi siamo qua per questo quindi se possiamo anche essere sfruttati su sì io praticamente avevo messo un po' di foto ma perché che so se abbiamo un terrazzo all'ombra al sole quale potevano essere delle piante da mettere però ce ne sono tante quindi siccome siamo andati un po' lunghi forse sono stata brava vorrei io vorrei dare dei brevi consigli forse cominci tu poi do io comincio io no io volevo solamente perché mi sono trovata negli ultimi tempi magari a suggerire delle piante per dei terrazzi allora prima di tutto credo che una cosa fondamentale sia quando parliamo di terrazze private il cliente che tipo di esigenza ha il terrazzo che poi deve andare progettato quindi quello è l'utilizzo quindi deve essere un utilizzo lui lo vuole vuole fare la manutenzione vuole lui è appassionato quindi è un terrazzo no che sarà anche questo un divenire dove verranno scelte le piante insieme oppure è un terrazzo di rappresentanza dove deve essere tutto pronto tutto perfetto perché il cliente a cui noi stiamo progettando il terrazzo sarà due settimane all'anno cioè sono cose che sono completamente diverse oppure è un terrazzo dove ci immaginiamo di sfruttarlo tutto l'anno e quindi abbiamo delle strutture con delle vetrate che ci permetteranno poi di vivere questa situazione che è bellissima di casa il terrazzo dove poi tutti comunicano e diventa un unico ambiente oppure sarà un terrazzo dove noi pranzeremo solo tre mesi all'anno ci sono tutte le situazioni che chiaramente il nostro cliente ci racconterà e credo che il racconto dell'esigenza del cliente o come il cliente si immagina che ci sia poi il discorso l'utilizzo del terrazzo sia la base di partenza su quello che noi dobbiamo pensare di realizzare perché è proprio l'utilizzo ma anche quello che ci immaginiamo di possibilità come diceva prima Flavio quanto staremo in questo terrazzo quanto tempo potremo dedicare questa è un'altra cosa fondamentale poi c'è la scelta delle piante che come abbiamo detto adesso più volte la posizione è quello che noi quindi limita molto e aiuta anche a prendere le decisioni importanti quello che io dico parlando a voi che sarete quelli che progetteranno che progetterete adesso e progetteranno da vivaista però lo voglio dire questo a volte abbiamo come azienda un catalogo che è molto ricco dove ci sono una quantità numerevole di varietà per specie perché in realtà l'esercizio che avevamo fatto su questo catalogo era di avere le specie che abbiamo avuto in 45 anni in collezione a Torzallorenzo ma anche per dare uno specchietto di quello che era la possibilità di trovare delle piante nei vivai tutto questo mondo del verde del vivaismo è cambiato è cambiato perché c'è stata le aziende hanno chiuso le aziende hanno aperto ci sono le aziende che coltivano solo rosmarini ci sono delle aziende che coltivano solo piante tropicali tutta questa cioè il mio catalogo rappresenta un po' la storia di questi 45 anni 50 anni di storia del ferovivaismo quando dove tutto quanto è iniziato c'erano degli alberi a terra e venivano zollati e venivano venduti gli alberi da frutto gli alberi di cipressi lecci ma insomma più o meno era quello poi questo grande Elisabetta se ti ricordi cominciava tutto con delle camelie da noi sì da noi sì però mi ricordo che il nonno aveva gli alberi da frutto chiusi una cosa così ma questo lo voglio fare breve per dire che credo che sia importante che ci siano i cataloghi delle grandi aziende italiane del vivaismo dove raccontano tutto questo percorso che c'è stato che è stato passione ricerca sperimentazione disastrosa perché a volte è un catalogo ma non solo il mio ma quello appunto anche di altre viva dove c'è tutto mescolato australiane sudafricane sudamericane autoctone all'octone tutta una serie di piante che hanno avuto il loro percorso quindi c'è tanta scelta oggi però se questa scelta non c'è più è bello l'esercizio di fare il pantone e trovarsi delle piante che possono avere delle cromie meravigliose insieme ma non si trovano quando arriva una lista a volte al vivaio dico no la domanda che ci facciamo queste giorni è adesso dove le troviamo perché diventa una cosa come fare il tombolo ma non per me è diventato proprio complicato purtroppo la globalizzazione come tutte le cose hanno omologato tutta una serie di produzioni dove prima volevo dire andare nei vivai e ritrovare tutte le clematis tutte le passiflore tutte le rose quindi io dico sempre la tavolozza dei colori era meravigliosa e potevamo tutti giocare su una quantità di cromie incredibili oggi ci sono dei vivai io penso per esempio ora che non c'è più son rosa il nostro caro Sergio ma per ricordare la fatica di un produttore che ha veramente trovato le rose in tutto il mondo le ha coltivate e ha creato questa come vi dicevo la possibilità ha dato a tutti la possibilità di utilizzare tante tante piante tante rose che mi ci sono appassionata io dice ma te sei una che è una vivaista ma sono una vivaista che non mi era appassionata di rose e mi sono appassionata da tutta per la possibilità di giocare con questi colori se non c'è più Sergio non c'è più quella collezione e tutto va a cambiare quindi non si trovano più quelle che sono le possibilità di avere questo ce ne sono altre perché magari ce ne sono altri ragazzi giovani oppure altre possibilità di persone che stanno aprendo benissimo allora progettate sapendo quali sono le piante che potete utilizzare perché girate andatenevi vai appassionatevi di questo non scrivete solo una specie perché è bello l'abbiamo vista in un libro perché se quella specie non c'è non c'è oppure ce ne potrebbe essere una uguale ma perché esattamente l'avete vista non solo l'avete vista in quelli vaghi l'avete vista in quella forma in quel vaso in quella dimensione cioè nel terrazzo non è che ci va le piante che ci vanno in un giardino allora se dobbiamo trovare la perla dell'albero che va in quel vaso antico è cerchiamolo ma non è che possiamo andare a far giro le vivai per quella perla ma se l'abbiamo visti tre o quattro ci sarà rimasto in mente quell'albero dice ma appena faccio un terrazzo ce lo metto questo secondo me è importante io scusate mia passione lo dico sempre perché poi quando io lo dico poi a me gli altri vanno mi ci vengono invece a me mi piacerebbe spendere il tempo perché questa cosa sia così perché è più divertente perché ci permette di progettare in maniera più consapevole più voluta e poi un'altra cosa che volevo dire che ho in questo momento mi piace tantissimo questa cosa che fa un po' di moda sto facendo qualche hotel e mi diverte che esista che è questa cosa del vecchio giardino della nonna dove anche nei terrazzi c'è questo recupero ci sono dei vasi bellissimi se fate un giro dei mercatini ci sono dei vasi che magari nessuno usa più cioè siamo sostenibili anche questo visto che costano così tante volte invece mettendo dei vasi diversi divertendoci un po' anche nei terrazzi a mettere un po' insieme di cose e di piante diverse beh devo dire che l'effetto è molto bello e questo perché chiudo perché sono venuta una sola volta al festival del verde del paesaggio e ho fatto un giardino esattamente così si chiamava il titolo del mio giardino si chiamava il giorno della festa perché era il ricordo di una domenica di quando si va alla messa e poi si va a mangiare la lasagna dalla nonna era un po' questo il tema e è stato molto divertente perché quando si mescolano quando loro cioè la conoscenza mescola vengono fuori delle cose molto belle mi hai fatto venire in mente che la passione per le piante mi è stata trasmessa da mia nonna io non ho nessun legame di famiglia con con il verde ma mia nonna era una grande appassionata e avevamo un terrazzo nel palazzo dove sono nato avevamo un terrazzo grande dove mia nonna coltivava le piante e io la aiutavo da piccolino vi farei notare però un aspetto importante dell'esposizione di Elisabetta si parla con amore di questo mestiere questo mestiere si fa con amore altrimenti diventa diventa un lavoro e non è più l'espressione nostra che mettiamo in quello che facciamo l'amore per questo mestiere è veramente un fatto fondamentale è un fatto fondamentale per chi progetta è un fatto fondamentale per chi cura è un fatto fondamentale per chi produce le piante e in questo Elisabetta ha una tradizione familiare molto molto importante sono stati sono e sono stati veramente il primo esempio di vivaio dove andavi e trovavi qualsiasi cosa e se un giorno telefonavi per chiedere una pianta e quella pianta non ce l'avevano c'era il responsabile del vivaio che ti rispondeva richiamami tra una settimana perché io te l'ho trovata perché non esiste io mi ricordo sempre questa frase non esiste una pianta che a Torsal Lorenzo non ci sia guardate che guardate che ci vuole una un'abnegazione una forza d'animo e un impegno e una professionalità per trovarla ma non solo trovarla attenzione perché poi quando io la trovo la pianta devo anche saper dire al cliente o al progettista o al paesaggista come utilizzarla quella pianta non basta vendergliela bisogna anche dirgli in che ambiente vive quella pianta io per capire come utilizzare una pianta devo pensare a dove vive in origine quella pianta da dove viene il tipo d'ambiente in cui quella pianta è abituata a stare nel suo DNA ha delle caratteristiche perché viene da un determinato ambiente e io non posso non tener conto di questo aspetto questo è particolarmente clamoroso nelle piante da interno perché noi utilizziamo piante di bosco e sottobosco subtropicale o tropicale addirittura e dobbiamo cercare nei nostri appartamenti di riprodurre quell'ambiente tropicale o subtropicale i nostri appartamenti d'inverno sono l'esatto contrario ma anche d'estate in effetti quindi dobbiamo cercare di ricostituire quell'ambiente e quantomeno di farglielo somigliare il più possibile per far stare bene le nostre piante ma noi spesso utilizziamo piante che vengono da ambienti completamente diversi dal nostro vanno tantissimo le piante che vengono dall'Australia che vengono dal Sud Africa e insomma bisogna bisogna riuscire a ricostruire quel tipo d'ambiente le dobbiamo mettere nelle migliori condizioni possibili a cominciare dal terreno io batto sempre sul terreno perché il terreno è fondamentale soprattutto quando ho piante in vaso ovviamente il terriccio che io vado ad utilizzare è fondamentale spesso in commercio io trovo il terriccio in sacchi che è soltanto una grande concentrazione di torba e poco altro io dico sempre a chi mi chiede consigli dico sempre cerca un terriccio che abbia meno torba possibile perché? perché la torba è difficile da gestire soprattutto se non ho la giusta esperienza la torba è praticamente idrorepellente quando io do l'acqua la torba non si imbibisce l'acqua gli scivola sopra io penso di aver innaffiato la mia pianta invece la pianta l'acqua è semplicemente passata di lato e se è andata subito nel drenaggio del vaso dovrei stare lì molto attentamente fare dei fori mandargli l'acqua dentro pian piano e allora poi pian piano la torba si imbibisce la torba è materiale organico poco poco umificato quindi non è così nutriente per la pianta la torba ha bisogno comunque di un processo successivo di di umificazione per poter essere quindi la cosa migliore è utilizzare terricci che che contengano poca torba terricci di alta qualità evidentemente quindi terricci che hanno prezzi più alti ovviamente terricci che sono prodotti da aziende specializzate che sono venduti da aziende specializzate che ci sanno magari consigliare per ciascun tipo di pianta il terriccio che serve e poi naturalmente io il terriccio nei vasi lo devo gestire questo significa che io annualmente devo sostituire una parte del terriccio in vaso e sostituire una parte del terriccio in vaso non significa mettere terra sopra al vaso e andare a coprire il colletto cioè la base del tronco della pianta ma significa togliere una parte della terra e sostituirla mantenendo la quota del terreno della zolla esattamente esattamente come la prima ditemi se sto divagando nelle cose che poi quando si comincia a parlare di pianta non ci si ferma non ci si ferma non ci si ferma più e io non so se dobbiamo ok abbiamo solo dieci minuti Franco non ti appassionare troppo quindi dicevamo l'importanza del terriccio e l'importanza di scegliere il terriccio giusto spesso per esempio le specie da ombra hanno necessità di terriccio acido di terriccio per acidofile che abbia quindi un pH acido noi parliamo di pH che va da 4,5 a 5,5 questo perché queste specie intanto in ambiente acido comunque il ferro che è un elemento importantissimo è l'elemento centrale della clorofilla quindi è un alimento per la pianta importante anche se non è un macroelemento come sono l'azoto fosforo e potassio ma comunque è un elemento estremamente importante in ambiente acido il ferro si solubilizza nel terreno nella soluzione circolante quindi nell'acqua e quindi è assorbibile da parte delle piante quindi io non ho fenomeni di clorosi quando ho il pH giusto ma ovviamente in città come Roma il pH del terriccio acido viene modificato pian piano dall'acqua calcarea quindi diventa pian piano terriccio alcalino quindi comincio a vedere fenomeni di clorosi e succede quello che vi raccontavo prima la signora che viene con ramo oppure la camelia per esempio che perde i boccioli e non va mai a fiore perde un sacco di foglie e le piante che si rovinano addirittura possono morire quindi anche lì devo avere la cura e l'attenzione di sostituire parte del terriccio tutti gli anni il fertilizzante che devo utilizzare deve essere un fertilizzante adatto a quel tipo di piante quindi significa che se ho delle piante acidofile devo utilizzare un terriccio un fertilizzante che abbia la capacità di mantenere quel pH acido nella soluzione circolante come se ho piante neutrofile quindi piante che vogliono vivere in un terriccio più o meno neutro devo utilizzare fertilizzanti adeguati della cura antiparassitaria devo diciamo combattere il parassita solo quando il parassita sta facendo realmente danni non devo trattare le piante a prescindere si dice a volte ma spesso purtroppo anche ne vivai a volte ti danno un'indicazione che è quella ma ho la pianta che non viene bene si ingiallisce un pochino dagli un po' di rame pare che il rame sia la panacea di tutti i mali il rame utilizzato male diventa fitotossico cioè il rame stesso che fa male alla pianta il rame addirittura diventa fitotossico per assorbimento dal terreno quindi bisogna stare attenti ad utilizzarlo anche il rame a parte che ci sono un sacco di alternative rame quando io ho malattie che devono essere curate con quel tipo di antiparassitari ma guardate spesso il parassita viene combattuto dalle condizioni ambientali cioè ciascun parassita tranne rare eccezioni tipo la cocciniglia che stiamo vedendo adesso che sta uccidendo i nostri pini ma altrimenti i parassiti che sono diciamo autoctoni quindi i parassiti che vivono abitualmente nei nostri territori hanno naturalmente sul territorio i loro competitori quindi gli afidi hanno le coccinelle che se li mangiano le cocciniglie hanno i coccinelli che le attaccano e via discorrendo quindi a volte la lotta antiparassitaria fatta con insetticidi generici che uccidono tutto quello che trovano tutto quello che colpiscono vanno a uccidere sia i parassiti che gli insetti che combattono i parassiti e quindi noi facciamo un danno all'ambiente oltre che a noi stessi perché ci respiriamo delle cose che è meglio non respirare penso che oh poi un altro un altro esempio diversi e poi vado a chiudere così non non vi non vi tedio ulteriormente tanto per dire come l'ambiente sia a volte a volte senza che nemmeno ce ne rendiamo conto ci condiziona i giardini della moschea di Roma quindi parliamo poi a breve distanza da qui noi li realizzammo con l'azienda in cui lavoravo all'epoca quando fu fatta la moschea fatti i prati e fatto l'impianto di irrigazione c'era un mio collega che sugli impianti di irrigazione era bravissimo c'era un pezzo di prato che si seccava si seccava per mancanza d'acqua ma l'impianto di irrigazione copriva perfettamente noi passavamo lì le ore io e lui a guardarci a guardare questi irrigatori ma copre 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 a un certo punto ci siamo resi conto ma abbiamo impiegato un po' insomma due belle teste insomma brillanti abbiamo impiegato un po' a capire che c'era una vetrata in un punto che rifletteva la luce del sole sul prato quindi c'era un triangolo di prato che era continuamente diciamo colpito da questa rifrazione del sole e ovviamente in quel punto l'acqua non bastava al prato e quindi bisognava semplicemente questo per dire che cosa che a volte non ci rendiamo conto ma l'osservazione è fondamentale dobbiamo cercare di metterci al posto della pianta e capire perché lì quella pianta non ha difficoltà ha problemi e magari poi con con l'osservazione attenta riusciamo a rendercene conto grazie e buon lavoro per chi dovrà progettare grazie ai nostri validissimi esperti alla nostra progettista ma soprattutto spero che abbiate capito una cosa che quando si parla di giardini di piante di terrazze bisogna come dire interpellare le competenze giuste se noi stiamo male se ci rompiamo una gamba non andiamo dal cardiologo ma andiamo dall'ortopedico la stessa cosa succede per le piante cioè se la pianta è malata se la pianta ha bisogno di supporto ma la pianta anche quando viene impiantata ha bisogno come dire dell'esperto che la impianti che è il giardiniere ma prima ancora di lui è il progettista che se è un bravo progettista si è rivolto a un bravo consulente agronomo o forestale e sicuramente ad un buon vivaio perché anche la qualità della fornitura è estremamente importante non solo perché vi evitate le figuracce mi è successo di trovarmi con delle piante consegnate che non sono quelle richieste finché un esemplare va bene ma quando cominciano ad essere 400 il problema diventa abbastanza serio e poi perché le piante che ti vengono date devono essere delle piante che sono sane io mi ricorderò sempre Mario il papà di Elisabetta che mi insegnava a capire quali erano le piante che stavano bene e quelle che stavano male cioè erano delle piante che Mario non ti dava alcune perché se le teneva lui perché proprio non le voleva dare perché per lui era gelosissimo di alcune sue piante il mio maestro Ippolito faceva la corte mi ricordo una canfora che Mario non gli ha mai voluto dare però dall'altro lato ci sono delle piante che giustamente ti dicevano questa pianta ancora non è giusto che te la vendo è una questione anche di onestà no? è importantissimo avere a che fare con delle persone che fanno il loro lavoro con passione perché non è solamente una questione commerciale soprattutto appunto quando trattasi di piante perché poi possiamo dare le garanzie che ti pare ma è un essere vivente no? Grazie a tutti facciamo una pausa per il pranzo ci rivediamo alle due e mezzo grazie a tutti grazie e grazie ai tecnici è un quarto d'ora eh? l'importante è che sia un quarto d'ora diciamo no no senza filmare dobbiamo solo far vedere un progetto di questa di questa collega va bene? grazie grazie